Festeggiamenti all'insegna della sobrietà nell'aula consigliare del comune di Padova, dove ieri sera ha avuto luogo la tanto discussa cerimonia di consegna del sigillo della città a Flavio Zanonato. Ex sindaco del capoluogo Euganeo, nei mesi scorsi, è stato chiamato a far parte della squadra di governo dal premier Enrico Letta, in qualità di ministro allo sviluppo economico. Sindaco di Padova dal 1993 al 1999 e poi dal 2004 all'aprile di quest'anno, secondo il primo cittadino reggente Ivorossi, ha meritato il riconoscimento ufficiale. La decisione aveva suscitato qualche polemica nel centro-destra. Presente però alla cerimonia il vicepresidente del Consiglio Comunale, Gian Piero Avruscio, del PDL, Settimo Gottardo, ex sindaco Pidiellino, nonché l'esponente di scelta civica Giustina Destro. Nessuno invece dello schieramento leghista, mentre dell'Italia dei Valori ha preso parte all'evento il capogruppo regionale Antonino Pipitone. Ci sono state molte polemiche su questo, per lei cosa rappresenta? Ma rappresenta un momento bello ma anche un momento triste perché mi congetto da un posto dove ho passato la bellezza di 38 anni. 38! Impressionante! Sono impressionato anch'io se lo dico. Naturalmente è emozionante abbandonare. Penso che fosse anche ora, dico la verità. Mai chiedere, mai rifiutare è stato un po' il mio motto. Quindi non ho mai chiesto nulla e non ho mai, quando c'era la possibilità di fare qualcosa di positivo per il mio paese, la mia città, rifiutato. Mi attengo a questo stile. L'omaggio simbolico è stato consegnato di fronte alle autorità civili, religiose e militari. Un gesto di gratitudine per il lavoro svolto da Zanonato negli ultimi 38 anni. In aula erano presenti tutti gli assessori e la maggior parte dei consiglieri di maggioranza, i rappresentanti delle categorie economiche e gli ex sindaci della città del Santo.